Tra l'altro anche piuttosto complessa, diciamo che sicuramente se io adesso stessi qui a spiegarvi quello appunto entrare nel merito appunto di tutta la vicenda probabilmente non riuscirei a trasmettervi effettivamente i fatti in maniera precisa come possono fare giustamente le persone che mi hanno contattato e che sono appunto ospiti oggi in questa, nello studio appunto di Radio Roma che io vado subito a presentare, a salutare e presentare chiaramente la mia testa subito l'ingegnere Adalberto Razzire, benvenuto a Radio Roma grazie di avermi chiamato e di poter scrivere la mia espressione, quello che ho vissuto e che vorrei illustrare a tutti anche perché quello che dirò certamente ha un carattere diciamo che coinvolge tutte le vicissitudini di altre persone che hanno vissuto il problema delle dismissioni di grandi complesse perfetto, poi naturalmente il signor Stefano Campolo che ringrazio e benvenuto a Radio Roma grazie e altrettanto ringrazio, ringrazio che finalmente siamo riusciti a ottenere la voce spero possa arrivare a tutti e deve arrivare a tutti nella maniera più chiara e trasparente che ci debba essere in un contesto del genere, perché noi non diciamo tanto per dire noi diciamo quello che è il fatto, il fatto documentato con tanto di pezzi di carta che esistono e che hanno scritto tutti quanti, pertanto aspettiamo chiunque possa intervenire o voglia intervenire per dirci questo non è vero, questo è vero, noi è tutto scritto quello che abbiamo fatto e abbiamo detto perciò c'è una piattaforma documentale sicuramente piuttosto consistente come mi confermerà sicuramente l'avvocato Andrea Baudino che ospite, che lui insieme a voi vi ha accompagnato appunto come si fa anche in una sede giudiziaria, è stato fatto anche in uno studio appunto radiofonico grazie per essere qui grazie direttore, buongiorno a tutti i radioascoltatori e perciò a questo punto io entrerei appunto nel vivo della vicenda poi l'avvocato Baudino qui anche per chiarirci poi naturalmente alcuni punti giuridici perché è l'avvocato che vi ha difesi giustamente, è stata la vostra parte legale appunto l'avvocato di parte appunto nei contenziosi che si andate ad instaurare appunto che vi hanno visto tra l'altro sconfitti mi sembra sì, diciamo sconfitti non è propriamente una parola giusta perché in realtà non è che abbiamo fatto una causa in cui eravamo accusati o accusavamo qualcuno di qualche cosa noi abbiamo fatto una causa più che altro per ottenere una documentazione che non ci veniva data da nessuno, né dall'organizzazione sindacale di tante nostre difensori né dalla proprietà, né dalle società costituite dopo per l'occasione società ad hoc per fare una certa operazione mancava una documentazione per poter definire sempre in maniera chiara e trasparente l'acquisto del nostro appartamento quindi chiedevamo dei documenti inerenti all'acquisto per poter valutare e comprare il nostro appartamento quindi la causa non è stata una causa tanto per analizzare comunque adesso prima di entrare appunto nel vivo diciamo di quella che è stata poi la diatriba insomma poi che si è svolta diciamo si è consumata appunto nelle aule diciamo giudiziarie io vorrei innanzitutto partire proprio da raccontare un po' per fare chiarezza anche ai nostri ascoltatori altrimenti poi rischiamo di non far capire poi la vicenda innanzitutto partiamo dalla genesi appunto della vicenda stessa come inizia il... cioè cos'è successo realmente in realtà? se vuole proprio l'inizio, l'inizio, l'inizio devo risalire un po' a due... dobbiamo raccontare tutto, esattamente tutto allora ci arriva una lettera noi cerchiamo di fare una trasmissione con la massima trasparenza poi lei ha parlato di documenti, prove documentali che cerchiamo di produrre anche radiofonicamente senza nessun problema perfetto, ci arriva una lettera dal nostro proprietario General Provenzi che dice che ha venduto a tale viste SRL questa è la prima notizia dopo un po' ci arriva... cioè voi eravate un attimo, voi eravate inquilini di questo... con un regolare contratto di affitto di cano c'è questa gente che ci sta dall'80, dal 75 dentro queste case ex alleanza assicurazioni poi passato di mano, passato di mano fino a che arrivava la General Provenzi che la quale ci scrive e dice ho venduto alla società vis SRL però questa cosa era già successa altre volte il fatto di vendere da una società... sì però c'era stato comunicato tramite sempre la sua letterina che diceva da adesso in poi si cambia nome... però la vostra situazione di inquilini non cambiava praticamente invece in questo caso una volta che è stata passata è stata venduta con la coppia vendita è stata passata al gruppo la vis SRL appunto ricordiamo che fa capo al dottor Giuseppe Statuto appunto cosa è successo? qual è la differenza rispetto alle altre volte? è successo questo che la vis SRL di Statuto ci manda una lettera a ciascuno di noi dicendo se eravamo intenzionati o meno a comprare il nostro appartamento ad un prezzo X, Y, Z che adesso non deve precisare ma con una clausola ben chiara e trasparente che non era proprio definitivamente quello con un compromesso o una proposta di vendita o di acquisto ma era una semplice lettera di comunicazione che se noi volevamo accettare o meno avremmo dovuto rispondere se io accetto però poi lui poteva anche riservarsi di non vendere di non vendere pertanto è una proposta insomma vi dà di comprarla poi io valuterò insomma in questo senso qui e da qui nasce tutta la vicenda che adesso io chiamo l'ingegnere Rasile ad essere diciamo aveva già avuto altre offerte dagli altri proprietari mai di vendita l'unica differenza dei passaggi di acquisto delle varie società è stata questa che fino alla General Proper nessuno aveva detto se voleva acquistare dal momento in cui è stata venduta la pista SRL ci è arrivata questa lettera a ciascuno e poi come? e le risposte da parte vostra? abbiamo detto intanto che l'ingegnere si schiara un po' la voce abbiamo detto che non avremmo comprato a quel prezzo e ci siamo costituiti perché a quel prezzo? che prezzo era? era un prezzo che non era né consono né congruente non era consono diciamo alla... niente perché era legato a un X e qui sono un fattore di psicologia punto e basta perché non era dettato da parametri di mercato ma più alto o più basso del prezzo di mercato era questo prezzo? dunque teniamo presente che il prezzo di mercato è un prezzo che sia quando si compra e si vende non soltanto quando uno vende che non è quello il prezzo di mercato il prezzo di mercato è quando uno vende e quell'altro compra comunque non era conveniente l'avete deputato non conveniente perché c'erano i anni di occupazione cioè c'era un diritto di opzione di acquisto c'era un diritto di prelazione perché noi erano 30 anni che abitavamo in questi appartamenti nessuno mai ci ha fatto presente che il diritto di operazione poteva essere esercitato poi sono da palazzi di 35 anni poi c'erano una miriade di lavori da effettuare che facevano sicuramente abbassare il diritto di lungo il prezzo e poi c'era un'altra caratteristica che avrebbe fatto abbassare il prezzo è che compravamo tutto in blocco per cui adesso invito il mio ingegnere io lo interroverei un attimo però vorrei parlare con l'appogato Baudino appunto giuridicamente era tutto a posto fino a qui? sì fino al momento diciamo delle prime iniziative di vendita della vis non c'era obiettivamente dai documenti che mi sono stati posti non riscontravo nessun particolare tipo di violazione di diritti quindi non vedevo fatti specie rilevanti dal punto di vista legale fino al primo al momento della vis allora la parola all'ingegnere Rassile comunque diciamo il problema è questo che la vis è una quando si è presentata sul mercato è una società che si era costituita esattamente nel 2003 con un capitale di 12.000 euro quindi praticamente si è presentata con 12.000 euro è controllata da varie società tipo la delrica la Michele Amari fa parte di tutto un gruppo particolare di società come collocazione temporale a quanto risale tutto ciò la vendita della vendita e passaggio proprietà dalla generale alla vista avviene il 16 dicembre del 2004 perfetto il 2004 io posso pure dire si parla di tre anni fa nel 2004 posso dire anche che a suo tempo alcune persone influenti del complesso che vuol dire persone influenti del complesso importanti socialmente politicamente ben collocate in varie diciamo istituzioni dello Stato che facevano parte del gruppo degli inquilini che facevano parte del gruppo degli inquilini quindi andarono a parlare diciamo con la con la generale properties per vedere se la generale properties quest'operazione che si sentiva nell'area di vendita l'avrebbe fatto direttamente agli inquilini così questo correvoce che praticamente la generale properties domandò a questi signori se per caso la